Roma Visnova torna a ruggire, inizia il girone di ritorno per la squadra dei Leoni si parte allora per questa prima giornata del girone di ritorno allo sprint per i Leoni, Emanuele Ferraro che ha praticamente un'abbracciata di vantaggio su Giliberti palla veloce, Devena, Devena William, Devena, primo gol della partita 1-0 Roma Visnova Devena, 5 secondi, William, William, Devena, trova il pertugio giusto all'angolino dove non può arrivare Andrea la moglie I ribatti a Roma con Vitola, 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 la bomba del capitano, terzo gol di Roma, Francesco Vitola Davide che si accentra, palla dentro, il tiro e che gol di Antonio Spinelli Riporta Roma sul più due, 4-2, bravissimo Antonio Offre a Manuele che ce l'ha, ce l'ha Manuele, ce l'ha, Manuele ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, e va a segno Emanuele, Ferraro, Roma torna avanti, 5-4 Maras, buona Vitola Goppi, il tiro e gol di Marco Padrisi Il tap in, Marco Padrisi sull'invito di Cicci Goppi, che superiorità questa Goppi, il tiro, Gigi, la palla rimane lì C'è un gol di Marco Padrisi Il gol del Bob Marco Padrisi Seste a sette, una beffa finale, con il rigore dato da Colombo Il rigore dato da Colombo A 1,5 Roma è davanti 7-5